Ieri mercoledì 8 febbraio purtroppo come annunciato è morta Elena Fanchini talentuosa sciatrice italiana che aveva vinto anche una medaglia d'argento in mondiali quelli del 2005 si è spenta a soli 37 anni la recidiva di un tumore l'ha portata via anche la sorella vincitrice pure di un argento in mondiali ha parlato degli ultimi momenti difficili della sorella abbiamo scoperto la recidiva ed è stata dura perché ha sofferto tanto perché non riusciva a controllare il dolore per noi è stato un dolore vederla soffrire così tanto vedere questo brutto male che la stava distruggendo la mia testa c'è ma il mio fisico non c'è mi diceva siamo nel 2023 e purtroppo ancora non c'è una cura contro il cancro lei era anche testimonia di AIRC e crediamo nella ricerca dobbiamo far sì che si possa sconfiggere questa malattia